Agente Lisboa Beh, come ti senti? Non male, è tutto considerato Gli antidolorifici fanno miracoli ormai Ha visto Jane? Sì, è in tribunale Come sta? Abbastanza bene Ci tenevo a farti gli auguri sia da parte mia che di tutto il CBI Grazie E il dottore dice che dovrei rimettermi in un giorno o due Ah, molto bene Eccellente, ma... Non devi forzare il tuo recupero Hai tutto il tempo che vuoi Tu e la tua squadra da oggi siete sospesi Siamo sospesi? E perché? Cosa? Tu hai bisogno di chiedermelo? Avete permesso a un individuo disturbato Di guidare le vostre attività E gli avete permesso di uccidere un uomo innocente, Lisbon Questo non lo sappiamo Un uomo innocente E soprattutto avete perpetrato una elaborata messa in scena contro di me Per collezionare prove che legassero me e il vostro capo A una vasta cospirazione criminale Devo continuare? Non può farlo La prego, lei non deve... Stai calma, Lisbon Pensa solo a riprenderti del tutto Rivisiteremo il tuo status quando ti sarai ristabilita Che ne sarà di Jane? Dimenticati di Jane Infermiera Come è andata la settimana? Dovresti essere all'ospedale Che cosa ci fai qui? Sto bene Tu piuttosto come... Oh, anch'io sto bene Hai ucciso un uomo disarmato davanti a centinaia di testimoni Non stai bene Aveva una pistola Qualcuno deve averla portata via e scambiato il cellulare È l'unica spiegazione possibile Sì, oppure per un momento sei impazzito Lisbon, guardami Non sono impazzito Beh, ecco, io ti credo Ma una giuria non lo farà Sì, beh, quello è un problema Io ho fatto quello che dovevo fare E ne subirò le conseguenze La prossima volta che vieni Mi porti dei maffi nei mirtilli Non è müzi Grazie a tutti.